Con questa unità didattica inizio un modulo composto di quattro unità didattiche dedicato alla presentazione di una serie di concetti che servono per poter utilizzare la razionalità anche nella soluzione di problemi estremamente complessi come quelli che il mondo reale presenta rispetto ai quali le tecniche standard della ricerca operativa o del problem solving che abbiamo visto fino adesso sarebbero inapplicabili Ho una prima serie di algoritmi che vedremo in questa unità didattica sono algoritmi di ricerca locale e vedremo quando e come possono essere applicati servono appunto in contesti in cui non è tanto necessario cercare un percorso ottimo ma quello che è importante è trovare una soluzione migliore della soluzione attuale poi avremo una seconda unità didattica che sarà dedicata all'adattamento degli algoritmi che abbiamo visto di ricerca di percorsi in caso in cui le azioni di modifica del mondo reale che si suppone la gente sia in grado di compiere non sono deterministiche cioè non è sicuro che abbiano esattamente gli effetti che sono previsti all'interno della descrizione della rappresentazione dello spazio degli stati e per affrontare questo problema faremo uso del concetto del grafo indoor una terza unità didattica sarà dedicata ad affrontare il problema che si ha quando non siamo in grado di sapere esattamente in quale stato ci troviamo perché non abbiamo una capacità percettiva totale e quindi abbiamo delle incertezze come vedremo nonostante le incertezze è possibile comunque mettere in atto le strategie di razionalità e quindi vedremo come farlo e quali sono queste strategie che un agente razionale dovrebbe mettere in campo nel caso in cui è consapevole di avere una capacità percettiva limitata e da ultimo l'ultima unità didattica sarà dedicata al presentare il caso base di un agente intelligente che si trova a dover cercare dei percorsi sì, questo sì, ma in realtà si trova ad avere un problema ancora più a monte perché si trova a dover cercare dei percorsi all'interno di uno spazio di cui non ha la mappa e quindi deve proprio realizzarsi in qualche maniera la descrizione dello spazio degli stati in tutti i casi precedenti davamo per scontato compresi quelli di questo modulo didattico davamo per scontato che lo spazio degli stati fosse comunque già presente e quindi con l'ultima unità didattica di questo modulo andremo a vedere il problema di come ricavare dall'esperienza uno spazio degli stati partiamo quindi dalla prima serie di algoritmi cioè questa unità didattica sarà dedicata a questi quattro algoritmi il climbing, simulated annealing, local beam search e genetic algorithms intanto chiariamo bene che questi algoritmi di ricerca locale sono da utilizzare nei casi in cui non siamo interessati al percorsi ottimi ma siamo interessati più che altro alla soluzione del problema e quindi siamo interessati ad arrivare a Bucharest non necessariamente ad arrivarci con il minimo numero di passi ma più in generale potremmo dire che siamo interessati a migliorare lo stato in cui ci troviamo è il più possibile per farlo il più possibile confacente allo stato obiettivo tutta una serie di problemi che sono qui elencati nel mondo reale cadono esattamente in questa categoria di problemi ma in realtà la differenza fra il problema della ricerca dello spazio degli stati e il problema della ricerca di uno stato ottimo è un problema in qualche maniera sono problemi che possono essere collegati perché se per esempio ci mettiamo a un metalivello questo è un concetto che abbiamo già anticipato nel modulo diattico precedente molto brevemente ma se partiamo da ricerca in uno spazio degli stati e ci mettiamo a un metalivello in cui consideriamo come stati gli alberi stessi di ricerca che vengono sviluppati in pratica noi quello che stiamo facendo è un raffinamento dello stato un miglioramento dello stato l'obiettivo sarà arrivare a uno stato in cui è presente il percorso che vogliamo cercare quindi questo esempio forse non è molto chiaro come quelli che stanno perseguire però vuole introdurre il concetto che è possibile passare da una concettualizzazione del problema come ricerca in uno spazio degli stati a un'altra come miglioramento della soluzione proposta per andare verso una soluzione migliore la ricerca per esempio di come disporre n regine su una scacchiera n per n è un classico problema dell'intelligenza artificiale lo si può affrontare in due modi come abbiamo appunto appena detto cioè o cercando un percorso di collocazione di questa n regine una alla volta sulla scacchiera e questo sarebbe il modo diciamo canonico che potremmo seguire utilizzando gli algoritmi che abbiamo studiato fino adesso oppure possiamo pensare di per esempio disporre a caso le regine sulla scacchiera andare a vedere quante coppie di regine si attaccano l'una con l'altra prendere questa misura come una misura di vicinanza di quello stato allo stato finale e poi dopo andare a spostare una regina in maniera tale da avere uno stato che abbia una funzione di valutazione della vicinanza allo stato obiettivo migliore di quello precedente questo sarebbe una ricerca nello spazio degli stati a metalivello ancora il problema del commesso viaggiatore di nuovo lo si potrebbe vedere sia a livello oggetto che a livello meta a livello oggetto significa sostanzialmente cercare un percorso che tocchi tutti i nodi del grafo che visi tutte le città che sia però il più breve possibile a metalivello invece possiamo pensare di aver già trovato un percorso valutare semplicemente se c'è un altro percorso che è migliore di quello scambiando gli archi di due coppie di nodi fra di loro allora gli algoritmi di ricerca locale sostanzialmente hanno come spazio degli stati un insieme di configurazioni già definitive che sono soluzioni di un altro problema che sarebbe un problema a livello oggetto rispetto a livello loro quindi quello che noi dobbiamo fare è una di queste due cose o cercare una configurazione ottimale per esempio come nel caso del problema del commesso viaggiatore oppure cercare una configurazione che soddisfi certi vincoli come nel caso dello scheduling temporale quindi quelli che stiamo a vedere sono algoritmi di miglioramento iterativi i vantaggi sono che non si ha assolutamente occupazione di memoria di fatto e questi algoritmi possono essere facilmente adattati a spazi infiniti per esempio nel dominio del continuo ecco questo è il principe degli algoritmi che sostanzialmente dobbiamo introdurre anche nella sua estrema semplicità quindi che cosa abbiamo? l'heel climbing l'algoritmo base abbiamo un problema in input bisogna restituire attenzione ecco questa differenza rispetto agli algoritmi precedenti non un percorso tantomeno un percorso ottimale ma bisogna restituire è semplicemente uno stato che sia un massimo attenzione locale qui questo aggettivo local già anticipa il carattere di località di questo algoritmo base le variabili sono lo stato corrente e uno stato successivo si parte quindi dal problema e si mediante una certa funzione si va a cercare all'interno del problema uno stato iniziale e che lo si fa diventare lo stato corrente dopodiché c'è un ciclo si va a cercare dello stato corrente una serie di no un possibile successore che abbia il più alto valore della funzione di di valutazione e questo lo si fa diventare il vicino dopodiché se il valore della funzione di valutazione del vicino è minore della funzione di valutazione dello stato dove già mi trovo allora io rimango l'algoritmo rimane dove si trova cioè lo stato che verrà restituito è lo stato corrente altrimenti e quindi l'algoritmo termina perché viene restituto stato corrente altrimenti il vicino diventa corrente lo stato corrente e l'algoritmo cicla allora in pratica questo algoritmo coincide con il criterio di dovendo scegliere sempre il nodo migliore quello con il più alto punteggio fra i vicini quindi un algoritmo di ricerca locale e solo se questo luogo questo nuovo stato vicino è migliore di quello in cui ci si trova attualmente quindi non viene mantenuta nessuna lista aperta dei nodi nodi frontiera cioè non c'è nessuna lista di nodi frontiera perché si esaminano questi nodi ma non vengono mantenuti in memoria si va a vedere ognuno lo si cerchi si va a vedere se è migliore di quello che attualmente è considerato il migliore il concetto è come andare sostanzialmente in montagna e si può sempre solo salire ma non si può mai tornare indietro e quindi come intuiamo bene ovviamente abbiamo tutti la capacità di intuire questo concetto abbiamo il problema del massimo locale quindi nel caso per esempio dell'otto puzzle noi potremmo a un certo punto dove ci muovere dalla configurazione in cui siamo attualmente ma nessuna delle mosse ci sarebbe consentita perché ciascuna delle mosse che abbiamo a disposizione andrebbe verso un peggioramento della funzione di valutazione dello Stato e questo potrebbe accadere anche nel caso del commesso viaggiatore in pratica in pratica le soluzioni che ci si può trovare di fronte sono quelle rappresentate in questa rappresentazione grafica in cui l'ottimo sarebbe se muovendosi da un luogo vicino si riesce a salire sempre per esempio se fossimo partiti da qui saremmo saliti sempre saremmo andati sicuramente al massimo globale ma se fossimo partiti come rappresentato qui in figura da questo Stato qui saremmo andati a finire in un massimo locale senza nessuna possibilità con l'algoritmo di climbing di poter raggiungere il massimo globale le due alternative che sono rappresentate in questo diagramma le uniche due alternative importanti che si distaccano significativamente concettualmente dai concetti massimo globale e massimo locale sono il concetto di spalla il concetto di altopiano perché se siamo su un altopiano praticamente l'algoritmo ciclirebbe ciclire ciclicherebbe sostanzialmente all'infinito non potrebbe venire fuori se noi per esempio lo riavviassimo in continuazione non potrebbe venire fuori da questo altopiano mentre invece nel caso della spalla ciclando all'infinito prima o poi magari lo stato potrebbe muoversi lo stato corrente potrebbe muoversi fino all'attacco della parete di risalita e potrebbe quindi ripartire allora qui il concetto importante adesso è cercare di capire siccome l'obiettivo ovviamente è quello di andare verso il massimo i massimi assoluti come poter conseguire questo obiettivo il primo concetto il primo algoritmo di miglioramento che presentiamo è il simulated annealing e il concetto semplicemente è un algoritmo derivato da un concetto tipico della metallurgia in cui si cerca di migliorare la qualità di alcune leghe per esempio dell'acciaio l'acciaio temperato e lasciando che fonda nello stampo poi riscaldandolo di nuovo portandolo al punto di fusione e aspettando che si riaffreddi e poi riscaldandolo di nuovo riscaldandolo di nuovo ma a una intensità a una temperatura più bassa dando una minore quantità di energia e così via fino a una situazione in cui a seguito del continuo scaldarsi e del raffreddarsi la disposizione delle molecole sarà tale da avere una compattezza del materiale migliore di quella che aveva durante la prima fusione e questo è l'ispirazione il concetto comunque ho cercato di rassumerlo in questa frase fuggire dai massimi locali consentendo inizialmente alcune mosse sbagliate di una certa entità ma gradualmente diminuendo sia la frequenza che l'entità di queste concessioni quindi sostanzialmente si dà un altro esempio potrebbe essere quello di avere delle palline che si muovono all'interno di una superficie con delle buche le buche sono ad profondità diverse noi vorremmo che questi oggetti chiamano le palline e vadano nelle buche più profonde dando una botta ci sarà una certa alla superficie dal basso verso l'alto ci sarà una certa possibilità che queste palline vadano a finire nelle buche più o meno profonde ma la possibilità che vadano nelle buche più profonde è una probabilità magari bassa allora possiamo dare una seconda botta per cercare di farle uscire ma non una botta forte come la prima perché altrimenti potremmo far uscire dalle buche alcune palline che sono già entrate e quindi dando delle botte sempre a intensità decrescente sicuramente miglioriamo la probabilità che alla fine delle palline vada alla fine nelle buche non abbiamo nessuna garanzia che andiamo verso la situazione ottimale però abbiamo una minore probabilità di poter essere finiti su un massimo locale non proprio desiderabile quindi l'algoritmo in generale è questo qui abbiamo un problema come nel caso degli inclami e dobbiamo residuire uno stato come nel caso dell'inclimbing qui abbiamo un mapping fra cicli e temperatura adesso spieghiamo la temperatura è un concetto appunto che deriva dalla metallurgia abbiamo lo stato corrente come variabile il neighbor è un altro nodo e la temperatura che sarà una variabile che ci va ci servirà per controllare la probabilità di poter accettare una 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 mossa sbagliata qui attenzione appunto gradualmente diminuiremo sia la frequenza delle mosse che accettano delle mosse sbagliate che l'entità cosa significa mossa sbagliata una mossa sbagliata è una mossa che ci fa scendere di livello rispetto a una funzione di 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 prossimità che invece dovesse aumentare quindi sostanzialmente accettiamo di poter scendere verso una una valle sperando una piccola valle sperando che al termine della piccola valle attenzione abbiamo una visione limitata dalla nebbia perché la la visibilità è locale sperando che alla fine della della valle ci sia una una risalita questo è un po' il concetto dunque quello che fa questo algoritmo in generale è al solito come abbiamo visto nel caso dell'incambio prendere uno stato iniziale farlo diventare uno stato corrente e poi ciclare però attenzione è un ciclo che è controllato da una variabile t minuscolo che mi data come input a una funzione di mapping mi restituisce una temperatura se questa temperatura è arrivata a zero e quindi a questo punto viene restituito lo stato corrente e sarà lo stato cercato altrimenti si va a cercare in maniera casuale un successore dello stato corrente cioè uno stato vicino e lo chiamiamo vicino next dopo si va a vedere qual è il valore della funzione di questo stato vicino rispetto a quella dello stato corrente se questa differenza della funzione di valutazione è positiva allora andiamo certamente nello stato corrente nello stato successivo e quindi il current diventa next quindi saliamo non c'è nessun problema se invece la funzione di valutazione è negativa cioè invece che salire come dovremmo fare stiamo scendendo allora invece che escludere in assoluto questa possibilità come fa l'inclimbing noi la mettiamo con il simulatore annealing ma solo con una probabilità quindi con funzione probabilistica è data da e alla delta e su t attenzione delta e è negativo quindi questo sarebbe 1 su moduli delta e su t quindi che cosa abbiamo abbiamo che se la temperatura t t sarebbe la temperatura è crescente con le ideazioni quindi abbiamo che questo contributo qui sarà sarà scalato sempre di più ovviamente dipenderà anche da delta e però sostanzialmente che più passa il tempo più la disponibilità dell'algoritmo ad accettare di poter scendere per poi risalire diminuisce fino a quando a un certo punto diventerà diventerà t maiuscolo 0 e a questo punto l'algoritmo termina e viene restituito lo stato corrente questo è il concetto di simulate annealing c'è tutta una quantità di varianti di questo algoritmo che sono state utilizzate nell'intelligenza artificiale per risolvere problemi di miglioramento di una soluzione di un problema e allora un altro approccio sempre stiamo cercando qui di altopiani sperando che magari gli altopiani possano essere delle spalle un altro approccio è quello di sostanzialmente utilizzare più scalatori contemporaneamente e quindi questo sembrerebbe un problema cioè una soluzione banale neanche da prendere in considerazione ma in realtà l'idea non è tanto quella di farli andare tutti quanti questi scalatori indipendentemente ma perché più scalatori ovviamente più scalatori perché partono da punti di partenza diversi teniamo sempre presente che sono scalatori che scalano nella nebbia quindi l'idea è questa o far ripartire l'algoritmo da un altro punto a caso e questa era l'idea base ovviamente oppure semplicemente casualmente far partire n scalatori da n punti diversi ma il local beam search ok partiamo da k stati invece che da uno solo facciamo k ricerche in contemporanea però attenzione quindi fra l'altro questa potrebbe essere facilmente paralizzata paralizzata ovviamente questa questo approccio ma non è tanto questo l'interessante perché l'interessante è andare partendo da k punti di partenza diversi andare a vedere i successori di tutti questi k punti che saranno ovviamente non so quanti perché non possiamo saperlo ma fra tutti questi andare a prendere i k migliori cioè quelli più in alto i k più in alto e dopodiché ripartire da questi k quindi non è la stessa cosa che far partire quattro scalatori in parallelo sarebbe come dire ok partono quattro scalatori in parallelo si guardano ciascuno attorno vedono quali sono i punti migliori di approccio ciascuno per il proprio conto dopodiché li comunicano agli altri e si vanno a prendere si vanno a prendere i k migliori punti di accesso esplorati dai k scalatori quindi quello che può capitare è che alcuni scalatori si debbano muovere dal punto dove stanno loro e andare a scalare nel punto dove sta nel vicino nello stato vicino trovato da un altro scalatore quindi in pratica questo è un modo di fare che ripeto spero di aver chiarito non credo di esserci riuscito in realtà che questa non è una ricerca che coinvolge k scalatori in parallelo ma è la ricerca che coinvolge k scalatori in parallelo che però tendono questi scalatori sostanzialmente a raggrupparsi prima o poi perché vanno a battere le piste che stanno esplorando le migliori piste che stanno esplorando in parallelo quindi per capirci supponiamo che siano solo due di scalatori per fare un esempio concreto e uno scalatore trova tre stati vicini uno a livello 10 uno a livello 9 uno a livello 8 e un altro stato l'altro scalatore trova tre stati vicini uno a livello 5 uno a livello 4 e uno a livello 2 allora cosa succede? succede che il secondo scalatore si muoverà nel luogo del primo scalatore e andrà nel 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 probabilmente il primo scalatore andrà lui a esplorare lo stato a quota 10 e lui andrà a esplorare lo stato a quota 9 che aveva trovato il primo scalatore quindi gli stati a quota 5 4 e 3 che erano i vicini del primo scalatore vengono abbandonati questo è il problema questo modo di affrontare il local bin search c'ha il problema che dopo un po' tutti gli scalatori vanno a scalare la stessa collina e e quindi si potrebbe in qualche maniera fare un po' più blend questa situazione mettendoci un po' di casualità dentro e cioè dicendo ok vabbè va lo scalatore sul 9 o o non ci va o va sul 7 o va su o rimane sul 5 e questo come abbiamo visto nel simulare di un leaning ci possiamo mettere un pochetto di di probabilità però quando che abbiamo messo la probabilità lì quello che si sta configurando è una specie di meccanismo di selezione naturale sostanzialmente sembrerebbe quasi che quelli che sopravvivono sono cioè vengono abbandonate le soluzioni che sembrano meno promettenti che in qualche maniera cioè non sono in grado di dare grandi garanzie di poter per il futuro dare delle prospettive di soluzione c'è una certa analogia con il meccanismo quindi della selezione naturale e questa analogia ci dà lo spunto per andare all'ultima famiglia enorme di algoritmi che sono stati sviluppati per risolvere queste tentare risolvere queste problematiche cosiddette famiglia degli algoritmi genetici in pratica come sappiamo dall'evoluzione naturale la teoria di Darwin il concetto di mutagenesi casuale e selezione naturale e come funziona sostanzialmente sopravvino gli individui ci sono delle mutazioni generiche casuali fra queste mutazioni casuali ci sono alcune che producono degli individui che meglio si adattano che quindi migliorano le proprie prestazioni rispetto a alcune problematiche che si trovano ad affrontare nel mondo in cui vivono allora questi individui qui avranno più probabilità di riprodursi e quindi si genererà una popolazione di individui che sarà meglio adatta ad affrontare le problematiche legate al mondo in cui questi individui operano anche qui ci saranno delle mutazioni quindi nella successiva generazione ci avrà delle successive mutazioni casuali e così via quello che è importante è che c'è una funzione di selezione in qualche maniera che opera nella natura secondo la storia di Darwin e quello che hanno dovuto fare questi studiosi è quello di replicare questa funzione di selezione all'interno dei meccanismi delle iterazioni che andiamo a fare dell'inclimbing quindi adesso presentiamo l'algoritmo con un esempio preso dall'esempio delle n regine allora qui abbiamo una soluzione temporanea in cui c'è un certo numero di regine che si danno scacco e innanzitutto rappresentiamola questo stato la rappresentazione mi pare che appartenga sia al secondo caso che è rappresentato qui in questa figura vediamo 3 2 7 sì esattamente 3 questo numero rappresenta la posizione dal basso verso l'alto occupata dalla regina all'interno della scacchiera per la prima colonna seconda colonna terza colonna quarta colonna quinta colonna e così via 3 2 7 5 2 4 1 1 è questo caso qui allora cosa succede? qui abbiamo ad esempio i 4 scalatori che vanno in parallelo e si trovano su 4 possibili soluzioni candidate soluzioni ciascuna di queste ha una certa funzione di fitness che sarebbe la funzione di valutazione appunto della soluzione e la funzione di fitness è data dal numero di coppie di regime che non si attaccano in realtà il numero di coppie di regime che non si attaccano a vicenda in una scacchiera 8 per 8 sarà 28 potete semplicemente fare il conto da soli questa soluzione qui che abbiamo 23 coppie di regime che non si attaccano e quindi ce ne sono 5 che si attaccano per esempio queste due queste due e poi queste due queste due e ce n'è una che mi sta sfuggendo ma da qualche parte ci sarà e ah beh e queste due qui dunque allora in base a questa funzione di fitness si genera automaticamente ovviamente una distribuzione di probabilità di che cosa più alta la funzione di fitness più alta sarà la probabilità che quel soggetto sarà coinvolto in un meccanismo di incrocio genetico non l'avevo detto ma qui gli algoritmi anche prevedono la possibilità di poter fare appunto una riproduzione sessuata così dire per così dire con lo scambio con lo scambio di patrimonio genetico allora in pratica la funzione di probabilità la distribuzione di probabilità ricalca la funzione di fitness quindi ovviamente deve fare 100 la probabilità complessiva probabilità di poter essere coinvolto in un meccanismo riproduttivo quindi i migliori soggetti cioè quelli che hanno il migliore valore della funzione di fitness saranno quelli che avranno maggiore probabilità di poter essere coinvolti nella riproduzione in questo esempio abbiamo quattro soggetti che appunto in base alla funzione di fitness hanno questo valore di probabilità di poter essere coinvolti nella riproduzione e appunto ci sarà adesso un meccanismo di introduzione della casualità per cui abbiamo che effettivamente il soggetto più sfortunato quello che aveva il 14% di essere coinvolto nella riproduzione viene eliminato il secondo che è quello che abbiamo rappresentato in figura cioè il 29% di probabilità di essere coinvolto effettivamente viene coinvolto e addirittura viene coinvolto due volte perché una prima volta viene coinvolto incrociando il proprio patrimonio genetico con l'individuo che poi rappresenterebbe quello che aveva maggior probabilità di essere coinvolto il primo una seconda volta incrocia il suo patrimonio genetico con il terzo andiamo a vedere il primo incrocio come si fa l'incrocio viene tagliato la descrizione dello stato in un punto e dopo di che si incrociano le due descrizioni come qui è rappresentato e questo sarebbe sostanzialmente l'emolazione dell'incrocio del patrimonio genetico questo questo viene fatto fra il secondo il candidato 2 e il candidato 1 e qui abbiamo invece gli incroci che derivano dal 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 candidato 2 e dal candidato 3 quindi vedete che abbiamo tre genitori che si incrociano a 2 con l'incrocio che abbiamo cercato di descrivere quindi vengono generati altri quattro individui quattro ne avevamo prima quattro ne abbiamo adesso perché supponiamo che appunto abbiamo quattro processi avviati e quindi lavorano su quattro stati alla volta e fino a qui abbiamo che il meccanismo della casualità è stato è entrato dentro la probabilità di coinvolgere un individuo piuttosto che un altro nella riproduzione e poi anche nella scelta della soglia del punto in cui poi andare a fare il crossover dei patrimoni genetici ma che cosa abbiamo dopo abbiamo una abbiamo altri quattro individui che hanno dei patrimoni genetici incrociati però ancora non si capisce bene dove vogliamo andare a parare perché non si capisce qual è la probabilità effettiva cioè il concetto è questo che quello che era meno più lontano dalla soluzione è stato abbandonato va bene quindi c'è stata una ricerca in qualche maniera degli individui migliori ma l'incrocio dei propri patrimoni genetici a cosa è servito è servito realmente a migliorare la qualità del patrimonio della soluzione cioè questi quattro figli sono migliori dei tre genitori se andiamo a contare se andiamo a contare il numero di coppie di regine che si attaccano questo potrebbe essere vero ma questo potrebbe anche non essere falso andate a farlo tranquillamente in realtà non si vede per quale motivo dovrebbe essere vero a meno che a meno che a meno che e questo è un concetto importante una regione il fatto che una sezione del patrimonio genetico abbia una qualche proprietà significativa nella direzione di migliorare la funzione di valutazione questa proprietà la possa conservare indipendentemente dall'accoppiamento con l'altra sequenza perché se questo è vero allora così si andrebbero trovando anche modo di andare a individuare queste sottoseguenze di DNA particolarmente valide potremmo effettivamente avere dei meccanismi locali di selezione di queste sottoseguenze e normalmente per il concetto del divide e timpera andarle a trovare potrebbe effettivamente essere un vantaggio ma questo nell'ipotesi che dopo l'accoppiamento con l'altra sequenza dell'altro genitore lascia inalterato il vantaggio se questo non è non si capisce sinceramente a cosa possa servire il rimescolamento dei patrimoni genetici quindi nell'esempio abbiamo addirittura un'ulteriore introduzione della probabilità perché vogliamo completare il parallelo con il concetto della mutagenesi casuale in pratica quello che si va a fare casualmente si va a prendere un valore del patrimonio generico e lo si modifica magari se qui ci fosse una qualche euristica per farlo per esempio mettere ad esempio qui è stato tolto il 5 che era ripetuto è stato messo l'1 che non era ripetuto il che significa che in pratica abbiamo ridotto il numero di regine che si trovano sulla stessa riga qui avevamo due regine che stavano sulla riga 5 e due regine che stavano sulla riga 2 adesso qui abbiamo solo due regine che stanno sulla riga 2 però in realtà se questo qui in realtà che cosa succede vediamo un attimo il il 7 è stato tramutato in due in realtà quindi addirittura adesso abbiamo tre regine che stanno sulla riga 2 quindi no l'esempio non non segue questo concetto se abbiamo voglio dire una questa è una mutagenesi casuale quindi è un modo per cercare di venire incontro al concetto di mutagenesi di casualità ulteriore e questi sostanzialmente saranno i successivi quattro individui che saranno coinvolti nella successiva iterazione tutto questo ha un senso allora se i codici genetici iniziali sono generati a caso e la scelta dei pezzi di codici da ricombinare è pure casuale allora la ricombinazione sessuata credo si possa dire non serve a nulla gli schemi cioè le sottoseguenze di DNA scrivo qui devono essere significativi indipendentemente dal resto della sequenza per poter in qualche maniera avere un senso il fatto che le andiamo a tagliare e incrociare cioè il crossover è utile se le sottoseguenze sono componenti significativi ecco va bene detto questo sostanzialmente non è che c'è una perfetta corrispondenza con il concetto di evoluzioni però in qualche maniera lo possiamo prendere in considerazione e vi invito appunto a approfondire l'argomento se siete interessati c'è tantissima letteratura sull'argomento degli algoritmi genetici e in alcuni casi bisogna dire che in alcuni problemi hanno effettivamente aiutato a migliorare le soluzioni proposte bene con questo termina l'attuale questa unità didattica con la prossima unità didattica prenderemo in considerazione invece la ricerca nello spazio degli stati quindi torniamo un pochino gli argomenti a noi classici nel caso in cui le azioni sono non sono deterministiche quindi non possiamo essere sicuri degli effetti delle azioni che andiamo a compiere